Hola a tutti ragazzi sono il vostro Luke e oggi come state vedendo qui davanti a voi ho preso il nostalgia nel mio canale A parte gli scherzi ragazzi siamo qui in questo nuovo video in cui l'obiettivo è appunto quello di illustrarvi i progetti per il canale Dopo aver parlato così formalmente direi di presentare i progetti Cavola da parte ragazzi volevo presentarvi ciò che sta succedendo al canale bensì una rinascita perlomeno si spera Tanto è vero che come avete visto ultimamente ragazzi ho cambiato il logo del canale E devo dire che davvero mi ritengo soddisfatto di questo logo molto carino Ok basta non parlo più così e poi ho caricato due video due giorni di fila Questo che vedete oggi è il terzo di fila oh mio dio incredibile Comunque ragazzi a parte tutte le cavolate parliamo seriamente Ho intenzione di riportare il video al canale Principalmente con nuovi format avete visto fifa avete visto le applicazioni create da me e le ho recensite Avete visto qualche costruzione di minecraft e vedrete anche qualche world true Per chi non sa che cos'è un world true ragazzi Sono i giochi con la loro storia Tra virgolette non è proprio così però vabbè A parte la seta che scritto la ragazzi volevo dire un'altra cosa Sto per portare qualche video di MotoGP 2018 Così mi fate sapere cosa ne pensate E anche di un gioco appunto con la storia Non vi dico il titolo ma anzi ve lo dico Vampyr? Vampyr? Non so come si dica Quello del vampiro ragazzi sinceramente non lo so che gioco è Voglio leggermi un po' la recensione dopo questo video che sto registrando E poi vedremo se portare un bel world true Detto questo ragazzi ditemi cosa ne pensate anche dell'idea dei vlog Dell'attività del canale e vi chiedo tanto supporto per riportarlo in vita È arrivata l'estate quindi prenderà a piede il progetto del sito della community Quindi i crazy players e ragazzi non vi pensate che sia tutto abbandonato È arrivata l'estate e come preannunciato prenderà a piede il sito, i vari team speak, i server e tutto il resto Detto questo ragazzi vi chiedo di rimanere attivi sul canale Seguitemi sul canale Telegram dove pubblico ogni news del canale Detto questo like, commento, condividete Perdonatemi se il video è durato poco Ma iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti ragazzi